Questo video è sponsorizzato da Eneba, sito di Ketra verso il quale potrete acquistare videogiochi a prezzi particolarmente vantaggiosi. In questi mesi usciranno titoli di peso letteralmente ogni singola settimana, quindi perché non approfittarne e comprarne alcuni a prezzi particolarmente scontati. Come ogni anno, anche questo settembre abbiamo avuto il nostro consueto Nintendo Direct, probabilmente l'ultimo grande evento a tutto tondo della grande N per questo 2023, un Direct che ha saputo mettere sul piatto tanta bella robetta. Proprio in ragione di ciò, ecco quindi nascere questo video, una vera e propria classifica in cui vedremo insieme tutti gli annunci fatti, dal peggiore al migliore, ovviamente seguendo i miei personalissimi gusti, quindi mettetevi comodi perché è il momento di dare il via alle danze. E partiamo ovviamente con il peggio del peggio, la roba di cui avrei potuto fare tranquillamente a meno, e quale modo migliore di cominciare se non con Trombone Chump, rhythm game musicale in cui dovremmo usare i Joy-Con come dei tromboni tramite sensori di movimento. In un primo momento mi sono chiesto chi mai spenderebbe 12 passa euro mortacci loro per una roba simile, poi però mi sono ricordato di aver comprato ai tempi Wii Music e tutta riacquisito immediatamente senso. Horizon Chase 2 è un gioco di corsa arcade molto veloce dalle meccaniche assai basilari, la cui unica colpa è stata quella di uscire in ritardo di 15 anni. Battle Crash è a tutti gli effetti una fusione tra un MOBA e un Battle Royale dove divinità di ogni tipo dovranno darsele di santa ragione. In questo caso parliamo di un gioco che unisce insieme due tra i generi videoludici che meno mi interessano tra tutti quelli esistenti, quindi è ovvio che non mi ci avvicinerò neanche con un bastone. Però una curiosità questo gioco ammetto che me l'ha fatta sorgere, ma con tutto il ben di dio uscito su Switch tra esclusive e titoli terze parti, davvero c'è qualcuno che deciderà di lanciarsi alla volta di questo Battle Crash? E per quelli che lo faranno, tutto bene in famiglia? L'annuncio di Tomb Raider 1, 2 e 3 Remastered rappresenta un momento abbastanza importante per me, poiché se da un lato sono sicuro che molti giocatori saranno ben felici di rivivere un vero e proprio pezzo di storia del gaming, io onestamente ho perso completamente interesse in questo mondo. Le remaster non hanno più alcun fashion innanzi ai miei occhi, e questo grazie soprattutto ai tanti remake e rifacimenti vari usciti nel corso di questi anni. Dopo aver visto Dead Space, Resident Evil 4, Shadow of the Colossus, Spyro e compagni completamente ricostruiti per offrire un'esperienza sì rispettosa del lavoro originale, ma al contempo desiderosa di essere al passo con i tempi, ritrovarmi davanti a delle mere rimasterizzazioni mi fa cadere le palle. Poi per carità, possono esserci delle eccezioni, ma Tomb Raider non sarà una di queste. War Tales è un GDR medievale in cui dovremmo guadagnarci fame e fortuna insieme alla nostra banda in un mondo pieno zeppo di insidie, sulla carta un prodotto che potenzialmente potrebbe offrire molto a un giocatore come me, nei fatti un titolo che mi è sembrato lento, legnoso è particolarmente povero, magari in un altro momento gli avrei anche dato una possibilità in un periodo storico dove il mondo dei giochi di ruolo ha visto sopraggiungere una valanga di grandi prodotti, beh grazie ma anche no. Among Us The Fungle, una vera e propria nuova mappa dedicata ad Among Us. Poi, l'ultima ondata di contenuti per Mario Kart 8 non mi interessa ma onestamente mi incuriosisce, non tanto per i contenuti in sé che sono felici siano usciti, il supporto per Mario Kart 8 è stato davvero di gran livello e con simili vendite non mi sarei aspettato altrimenti, ma presto o tardi bisognerà passare a un nuovo capitolo. E pensateci gente, siamo arrivati al punto in cui potremmo dire che i pianeti si stanno allineando, da una parte abbiamo la fine dei contenuti aggiuntivi in arrivo, dall'altro lato abbiamo una nuova console Nintendo che si fa sempre più vicina. Ma quale modo migliore per annunciare sto benedetto non episodio se non in concomitanza con Switch 2? Io sinceramente ci spero. Con Luigi's Mansion 2 HD torniamo al discorso di Tomb Raider, gioco fantastico che ho adorato su 3DS ma avendolo già bello che è finito non lo riprenderò su Switch, a maggior ragione considerando che il lavoro fatto sembra abbastanza mediocre. Ripensando a quant'era visivamente splendido Luigi's Mansion 3, potevano sicuramente impegnarsi maggiormente con il secondo capitolo. Per la serie e titoli che probabilmente in passato avrei giocato ma oggi proprio no, abbiamo due nomi per due esperienze parecchio diverse. Da una parte Bandle Tale, la League of Legends Story, sembra un gioco solido e particolarmente ricco, ma oramai non ho più il tempo per star dietro a quelle avventure in cui devi vivere la tua vita, pesca, costruisci, divertiti, grazie ma ne faccio volentieri a meno. Dall'altro lato, Spyania Operation Memories è proprio il classico gioco niponico che in passato avrei comprato anche solo per curiosità. In questi ultimi anni però i miei gusti sono un po' cambiati e oramai ci sono prodotti del sollevante che non riescono più a incuriosirmi. E considerando quello che compro ancora oggi, ciò dovrebbe farvi capire la merda con cui giocavo anni fa. Per Super Crazy Rhythm Castle ho una piccola confessione da fare, dovete infatti sapere che inizialmente avrei voluto mettere il gioco ancora più a fondo nella classifica e invece cavoli, sono andato a cercare informazioni a riguardo e sembra più figo di quanto pensassi, soprattutto considerando che nel trailer del Direct sembrava che il gioco fosse solo co-op, quando poi in realtà lo si potrà giocare anche in singolo, quindi tacci tua Nintendo per non avermi ci fatto capire nulla. Rimane nell'ultima categoria perché ancora fatica a inquadrarlo, ma potrebbe benissimo essere un mio futuro acquisto. Dopo esserci tolti dalle palle gli annunci senza i quali avrei vissuto questo Direct molto meglio, è giunto il momento di passare alla categoria successiva, lì dove troveremo tutti i titoli che per un motivo o per un altro hanno saputo intrigarmi. Partiamo subito con un nome controverso. Contra Operation Galuga non è che mi faccia gridare al miracolo, e anzi, lo stile grafico adottato appare mediocre a voler essere buoni, però ragazzi è pur sempre contra e sotto sotto voglio giocarlo. Quanto meno dubito che Konami potrà far peggio di Contra Rogue Corps. Ma ehi gente, mai direi mai. Dopo un WarioWare Get It Together carino ma ben poco memorabile, questo nuovo capitolo, Move It potrebbe rivelarsi una bella sorpresa, e la scelta di sfruttare i sensori di movimento sicuramente lo rende più peculiare. Sta di fatto che parliamo di una tipologia videoludica per cui non è che straveda, quindi sicuramente non lo prenderò al Day One, ma lo recupererò più avanti. Quello che invece davvero vorrei vedere è Wario Land, ma tanto mamma Nintendo è puttana e quindi non lo rivedremo mai. E parlando di Nintendo puttana, dopo aver chiesto a gran voce un nuovo capitolo, la grande N ci ha voluti graziare con F-Zero 99, dove 99 sta per gli anni che abbiamo passato a implorare Nintendo per un episodio inedito. In realtà il gioco appare pure molto carino, Tetris e Super Mario hanno dimostrato che questi peculiari Battle Royale, se ben gestiti, possono offrire parecchio divertimento. Non vi è dubbio che lo giocherò, però cazzarola ragazzi e datecelo sto nuovo F-Zero! Song of Nunu, che fa parte della schiera di titoli legati a League of Legends, sembra un titolo semplice, non troppo complesso o fuori dagli schemi, ma al contempo capace di fare il suo, un action-adventure da godersi in qualche sessione ludica non troppo impegnativa che pare avere un suo carisma. Indipendentemente da tutto, comunque apprezzo molto questa volontà di espandere il brand di LoL con svariati videogiochi tutti diversi tra loro, si stanno muovendo indubbiamente bene. Mario vs Donkey Kong è un brand originariamente nato su Game Boy Advance e a cui non mi sono mai avvicinato, ma questo nuovo capitolo della serie in arrivo su Switch sarà il modo perfetto per scoprirlo più nel dettaglio. Indubbiamente quanto mostrato non sembra aver svelato un'esperienza particolarmente complessa, sembra pensato un po' per tutti, ma all'occhio di riguardo pare essere diretto ai più giovani, con questo puzzle game a livelli in cui dovrei sfruttare il proprio ingegno per avanzare tra gli stage. A occhio mi sembra una di quelle esperienze perfette per qualche partitina in portabilità a mordi e fuggi, probabilmente non è un titolo su cui mi lancerei al day one, ma lo recupererò con piacere. E qui signori, prima la gioia, e poi il dolore. L'annuncio di una vera e propria espansione per quella perla videoludica di Estward, titolo che consiglio caldamente a chiunque abbia un minimo di gusto nel panorama videoludico, non può che farmi estremo piacere. Ammetto che in un primo istante avevo inserito questo DLC in cima alla nostra classifica, salvo poi farlo scendere di parecchi posti quando sono andato a guardare più nel dettaglio i contenuti, scoprendo così che si parla di un'espansione a tema farming. Quindi sì, è vero, lo voglio, però intrinsecamente vorrei anche morire. Devo ancora giocare a Splatoon 3, ma vedere ulteriore supporto nei confronti di questo brand, i cui primi due capitoli mi sono piaciuti davvero tanto, non può che farmi estremo piacere. In questo caso specifico si parla di quella che dovrebbe essere una nuova espansione a tutto tondo, con questo hard design che a tratti mi ha fatto tornare alla mente niera automata. L'avventura ci vedrà intenti a scalare una mega torre piena zeppa di sfide sempre più difficili, e dalla nostra avremo anche un vero e proprio sistema di potenziamenti, quasi fossimo davanti a un GDR con tanto di danni visibili su schermo. Personalmente spero di cuore che si parli di un'espansione narrativa a tutti gli effetti, onestamente non l'ho ben capito dal trailer, poiché l'espansione con la campagna aggiuntiva di Splatoon 2 fu una vera perla. Speriamo possano replicare quel successo. Detective Pikachu in ritorno è un titolo che mi lascio interdetto. Da un lato mi intriga, ai tempi giocai al primo capitolo su 3DS e non mi dispiace affatto, dall'altro lato cavoli se sembra arretrato sotto il profilo tecnico. In ogni caso mi aspetto comunque un gioco che sappia intrattenermi sulla falsariga dell'originale Detective Pikachu, con questa avventura investigativa non troppo complessa in cui dovremo risolvere misteri di varia natura. Il tutto ovviamente insieme al nostro Pikachu parlante. Quanto meno visivamente sembra più bello di Scarlatta e Violetto, che voglio dire... è già qualcosa... credo. Passiamo a una piccola doppietta di prodotti in arrivo su Switch che hanno saputo catturare immediatamente l'interesse della mia zona inguine. Dopo un primo capitolo davvero ottimo, lo strategico a turni Wargrove 2 sembra un grosso passo in avanti per il brand, ampliato e arricchito sotto ogni punto di vista, con poi la presenza di questo grosso editor che permetterà a chiunque di creare vere e proprie campagne aggiuntive da poter condividere online, di fatto rendendo il titolo potenzialmente infinito. Dave the Diver è un gioco di cui ho sentito parlare molto spesso con toni entusiastici, ma che ho potuto solo toccare di striscio, un'opera particolarmente varia e abbastanza fuori di testa che sembra sia stata fatta con grande passione. Nello specifico si parla di un'avventura single player con elementi da gioco di ruolo in cui dovremmo gestire un ristorante di sushi con tutti i problemi del caso che si presenteranno di volta in volta. L'annuncio in sé non è che mi interessi particolarmente, alla fin fine io non lo giocherò su Switch, ma in ogni caso più persone potranno provarlo, meglio sarà. Quella di Saga è una serie videoludica a dir poco storica che negli anni si è caratterizzata con videogiochi di grande qualità, e l'annuncio di un nuovo capitolo del brand non può che farmi un gran piacere. Del gioco sappiamo poco, ma spero in un titolo caratterizzato da una narrativa di qualità e da un combat system a turni bello solido, ma per avere risposte in tal senso dovremo necessariamente attendere di poterci mettere sopra le mani. Di contro però posso già dire che il titolo, almeno da quanto visto fino ad ora, sembra bruttino visivamente. Non parlo tanto in termini di resa visiva generale, lì anche sti cazzi, quanto per Art Direction, che purtroppo mi è sembrata davvero poco ispirata. Si spera sempre in potenziali miglioramenti prima della release, ma dubito che si potrà fare granché in termini di direzione artistica, quindi... eh, peccato. Another Code Recollection è un altro e l'ennesimo ritorno di una saga del passato sotto forma di remake, e come per tanti altri remake, non potrei essere più felice del suo arrivo. Non avevo mai sentito parlare di questo brand, ma il trailer pubblicato ha saputo intrigarmi davvero ma davvero tanto. Una sorta di avventura grafica tutto tondo che ci vedrà impersonare i panni di una ragazza in cerca di risposte in un'isola dimenticata. Misteri, intrighi e pazzo laiosa. Il gioco ha indubbiamente le carte in regola per farmi assai godere, e il fatto che questo remake conterrà al suo interno entrambi i capitoli usciti, beh, rappresenta un motivo in più per acquistarlo. Chiudiamo questa seconda tranche del video con una delle sorprese più inaspettate del Direct, un annuncio che se da una parte mi ha fatto estremo piacere, dall'altro lato si è portato dietro qualche dubbio. C'è poco da fare, gente. Se i Vanillaware presentano un nuovo progetto, il vostro freccia lo deve comprare, e anche in questo caso potete star certi che mi ci tufferò di testa fin dal day one. Artisticamente il titolo sembra davvero stupendo, quasi un quadrimovimento. Di contro invece il gameplay... diciamo che ho davvero bisogno di ricevere più informazioni sotto il profilo ludico, perché quanto visto non è brutto, sia chiaro, ma non ha saputo mostrarmi nulla di davvero peculiare che potesse distinguerlo da altri mille titoli del genere. In ogni caso resto fiducioso, i Vanillaware non mi hanno mai deluso e dubito che le cose cambieranno con il sopraggiungere di questo unicorn overlord. Chiuso il secondo gruppone di annuncio dell'evento, giungiamo ora alla terza ed ultima parte della nostra classifica, lì dove si annidano i titoli che al solo vederli avevo già i soldi in mano. Prince of Persia Lost Crown è probabilmente il titolo che più mi interessa tra tutti quelli in sviluppo presso Ubisoft, o quantomeno di tutti quelli che già hanno una data d'uscita. Se prendessi in esame davvero tutto direi che il loro Star Wars Outlaws è ciò che più di ogni altra cosa attendo dalla compagna francese. In ogni caso sta di fatto che questo nuovo Prince of Persia mi intriga un casino. Il gameplay mi piace un sacco, visivamente appare molto gustoso, sembra un gioco solido e ad ogni nuovo trailer appare sempre più imperdibile, con una struttura ludica tanto ricca quanto divertente. Sappiamo che l'uscita è fissata per inizio 2024, quindi aspettiamo e incrociamo le dita, poiché potremmo essere innanzi a un prodotto da non doversi assolutamente lasciar scappare. Rimaniamo in tema di titoli già noti e che non vedo l'ora di potermi finalmente godere con i Juden Chronicles Andred Heroes, mostratosi con data d'uscita. Finalmente, finalmente cazzo, lo aspettavo da una vita e ora è in dirittura d'arrivo. Per chi non lo conoscesse si parla di un JRPG dal potenziale incredibile. Finanziato su Kickstarter è nato grazie alla collaborazione di due mostri sacri, ovvero Yoshitaka Murayama e Junko Kawano, meritevoli di aver dato forma praticamente all'intera saga di Suikuden. E infatti i due sviluppatori hanno affermato di voler portare alla luce un'opera in grado di surclassare il gioiellino targato Konami, parole davvero forti ma che dette da nomi tanto altisonanti assumono una certa validità. Non a caso il gioco sembra spettacolare, meraviglioso visivamente, incredibilmente sfaccettato narrativamente, ricchissimo ludicamente con i suoi cento e passa personaggi giocabili. Insomma, il titolo appare già da ora come una figata imperdibile per tutti gli amanti del genere e io sarò in prima fila per poterlo giocare al day one. Tornando invece a parlare di rifacimenti videoludici, nuovo trailer di Super Mario RPG, gioco che si becca alla medaglia di bronze della nostra classifica e su cui in realtà non è che abbia poi molto da dire. Lo abbiamo già visto allo scorso Nintendo Direct e ne parlai nel dettaglio allora. Più lo vedo, più lo voglio. Non avendo mai giocato all'originale non sto più nella pelle all'idea di potermi finalmente tuffare in questo enorme viaggio e ogni nuova presentazione a tema sembra mettere in mostra un gioco sempre più imperdibile. Mamma mia ragazzi se sembra davvero figo. Tra l'altro ci tengo ad aggiungere che in generale ho sentito diverse critiche nei confronti dello stile adottato con questi personaggi più schiacciati rispetto ai Mario moderni. Però, boh ragazzi, a me onestamente piace pure visivamente. Secondo posto, medaglia d'argento, arriva la nostra principessa. Princess Peach Showtime si è mostrata ai miei occhi in una forma molto più interessante di quanto potessi originariamente immaginare, configurandosi come un platform adventure che con il suo stile e le idee sceniche messe in mostra mi ha fatto tornare alla mente quel diamante di Paptier che chiunque dovrebbe giocare almeno una volta. La principessa Peach dovrà infatti vivere in prima persona una serie di spettacoli teatrali a tutti gli effetti, sconfiggendo nel mentre i cattivoni di turno. Il tutto potendo però contare su vari indumenti che le conferiranno abilità di ogni sorta, un po' come con Kirby. Il gioco sembra molto vario, ogni vestito porta ad approcci ludici molto differenti e la qualità Nintendo traspira con forza. Se già l'annuncio il gioco seppe incuriosirmi, ora invece sono veramente gasato. Sì, sono gasato per Princess Peach Showtime, ma lo sono ancora di più per la prima posizione della nostra classifica, lì dove troviamo anche quello che è stato l'ultimo annuncio del Direct. Certo ragazzi, lo so, già vi sento. Siamo davanti a un altro remake, il 27esimo remake in sviluppo per Switch. Ma onestamente non potrebbe fregarmene di meno. Il ritorno di Paper Mario, il portale millenario, è un altro sogno che si avvera. Come detto più volte mi sono avvicinato all'universo di casa Nintendo molto in ritardo, perdendomi per strada un sacco di roba, compresa tutta l'era Gamecube, tra cui anche questo Paper Mario, un gioco amato da moltissimi per un brand che sprizza carisma da ogni poro. La varietà dell'esperienza sembra incredibile, e il modo in cui viene sfruttato il fatto che tutto sia di carta appare geniale già solo da questo trailer, con una ricchezza di contenuti e una solidità ludica che non ho dubbi saprà tenermi incollato allo schermo. In pratica siamo davanti all'ennesimo gioco Nintendo che farò mio non appena giungerà sul mercato. Sta di fatto però che con Paper Mario giungiamo alla fine della nostra classifica e anche di quest'ultimo Direct, un Nintendo Direct che onestamente mi è piaciuto. A onor del vero l'evento non è stato nulla decratante se si vanno a guardare i contenuti nello specifico, ma rappresenta l'esempio perfetto di Direct giusto al momento giusto. Nintendo Switch sta giungendo alla fine del suo ciclo vitale e un dato di fatto, e quest'ultimo evento della grande N ne rappresenta una grande conferma. Di fatto abbiamo molti titoli in arrivo nel breve periodo, tra i giochi di rilievo a parte Paper Mario sostanzialmente ogni prodotto mostrato aveva una data d'uscita e se si va a guardare la line up di giochi in arrivo si potrà notare che per tutta la fine del 2023 e anche per inizio 2024 ogni mese uscirà qualcosa su Switch. Ma tolto Mario Wonder che pare un gioco fenomenale ma che comunque rimane un Mario 2D, avremo un sacco di grandi remake, diversi nuovi titoli che però fungono più che altro da tappabuchi, in molti piatta del caso, e un gioco dedicato alla principessa Peach che sicuramente sarà molto bello ma che comunque non sembrerebbe volersi imporre come la grande produzione Nintendo. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, davvero tanta, ma non vi è nulla che spicchi veramente, e il motivo appare abbastanza ovvio, una nuova console della grande N è in dirittura d'arrivo. Oddio, in realtà non so con certezza quando la nuova creatura targata Nintendo giungerà sul mercato, ma sono sicuro che la vedremo nel 2024, ed è a quel punto che avremo le vere bombe, quelle capaci di far tremare il pavimento. Ci ho detto comunque, lo ripeto, io questo Direct me lo sono goduto davvero tanto, ci sono un sacco di giochi nuovi che mi interessano da una parte e diversi remake di produzioni storiche da me mai giocate e che voglio assolutamente vivere in prima persona dall'altra. Proprio per questo motivo però, capisco anche tutti coloro che hanno ritenuto questo Direct deludente. Alla fin fine, due dei nomi più importanti qui dentro, Mario RPG e Paper Mario, sono pur sempre due remake e se già li avete giocati in passato, il vostro interesse a riguardo potrebbe essere scemato molto rapidamente. Semplicemente io ho avuto la fortuna, se così vogliamo chiamarla, di non averli mai toccati con mano. Questo comunque era tutto quello che avevo da dire a riguardo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Noi ci rivediamo in un prossimo video.